Sì, Jakub, casa e Antonio Sorbara, partiti. PR, Michulis, uno contro uno, fino in fondo, la cana, a tiro in allontanamento nel suo campo. Una foto e filmati durante la settimana a causa di un problema alla caviglia, bomba di casa, Jakub. Michulis, tre a due, può ripartire la formazione giallo-nera, Sorbara è due. Davanti alla banchina di Coach Codroneo, Vigoriti, Finta, Passo, Passaggio, la cana, la tre, la cana. Sfira grazie alle bombe di Costantino, poi tutto cambiò, in un'amena, riparte la formazione bianco-blu. Simon Lavigne, in percussione, morto, contatto con Lavigne, morto contro Lavigne, si rinnova la sfira. Morto per Jakub, casa, che voleva tirare, poi tira in faccia a Michulis, bomba! 1.55 da giocare, Kevin si mette in proprio forze passi, non riesce ad analizzare, extra possesso Kevin. Se la va a prendere Barrile. Condottiero bianco-blu, passaggio per il entrato Danilo. La recupera Scolpini, questo è l'assetto, dove il basket mercato, bomba! Jakub! Casa! Sta giocando una grande partita Danilo. Bello il palleggio, elegante, fondamentali da Spavento. La shock, la intende molto bene Mischa. Scolpini, per Pandolfi, ancora per Mischa. Movimento vecchio a scuola, dall'antica Ucraina. Super cane, sicuramente una squadra qualsiasi alle nostre latitudini. Scolpini realizza la palla a danza, importantissimo. Scolpini, ancora per casa. Jakub da tre, braccio armato! Accanto al nostro caro Pietro, potete vedere che c'è totalmente il sold out. Non c'è più posto per nessuno. Mi dicono, diciamo, file chilometriche anche fuori dal palazzetto. E contro Mischa, passaggio per la Vigne. One to one contro Kevin Pandolfi. Stoppatore di Kevin! Che dice no! Dall'altra parte, pronta la formazione giallonera. Cara Pasquale Mota, Kevin! Ma che cosa è fatto, amici? Post basso per i Pepi. Se lo gioca, scarico ancora per Simon dall'Argentino. Alzando la parabola, a realizzare! Derby di Reggio. Di Goriti. Alto basso per i Pepi. Realizza Andrea! Casa da tre! Vicidiale! Morto, la Vigne, mi c'è una mano. Barrile per un attimo, qua la Vigne. Contro per le VR, dopo la recuperata. Di Goriti, assist intelligentissimo. Per poco, Barrile. Trenta, pari. Per la Vigne. Ora per il capitano, Luca Laganà. Laganà! Prova a girarsi! Verità della battuta. Del Belaganà! Prova il tiro! Ancora! Attaccano gli Singers. Palla per Antonio Smorto. Rocco di Jakub Casa. Lo strutta Antonio. Arrezzo il tiro dell'ex. Realizza il season. Di Goriti. Passaggio per la Canà. Ancora per Di Goriti. Va dentro! E' un'altra cosa! Da impazzire, Simon Lavin! Pandolfi per Smorto, nell'angolo. Bomba di Antonio, Smorto! Parità! Un catch con Sorbara. Barrile da pivot. Bellissimo! Può ripartire di Goriti. Ora per Barrile da Manuel. La lupa! Uno scatenatissimo, Simon Lavin. L'uomo della svolta, l'uomo del break. Barrile fino in fondo! Ma che cosa! Fisca l'albito, sbaglia di Pepe. Non fisca ancora. Motuli a campo aperto. Casa! Contro piedista! Ok! Barrile, fronteggia. Finta, doppia finta. Scarico per Di Goriti. Ancora la cana, la bomba di Luca. Solo Cotone. Presione di Goriti la ruba Lavin. Scelta completamente da dare da parte degli Stingers. Lavin! A canestro! Qua la ADR è la maggiore concretezza in fase di ball handling. Sembra veramente impattante! La gana! Chiavo! Sembra un giovincello! Molto in fondo, realizzato da due punti. Sabato è bomba di casa. Ancora un errore. Sta sparacchiando la formazione giallone. L'altra parte la ADR. Sembrava Alessandro Neste del Piedra Grande Lace. Sven, Golan, Erikson. Casa! Da due punti. Di Goriti. Bello il passaggio per Andrea Rinpepi. Quella contro il Vincola di Milazio. Era uno spostamento di partita per i gialloneri. Cari ai presidenti di Gerace Calabro. Realizza Smorto. Parte la rumba. Passaggio elegante per Miciuli. Stoppato in volo. Da Smorto. Giocata determinante anche a livello psicologico. Smorto va dentro. Resiste e realizza il divino. Portiere della cieco slovacca di Italia 90. Di Tomas Curavi. La recupera. Antonio Smorto. La stella americana per Iacupi da tre. Iacupi! Gaetano Romeo. Tanti palleggi per Gaetano. Arresto e tiro. Contro tempo. Vuole manco il fallo. Contro tempo. Ora per Fortunato Barrile. Riflette Fofo Barrile. Passaggio per Lavigne. Post basso per Miciuli. Miciuli. Prova il gancio. Vecchia Scuola. Va la Lettonia con furore. Di un 9. 29 a 2. Un 2. Sul ferro. Sembra anche un po' stanca. La formazione giallonera. Che si dimentica completamente. Barrile. Adesso Giuseppe Scolpini. Servito Smorto. Gloppo di Iacup Casa. Smorto. Prova a sfruttarlo. Iacup Casa cambia angolo. Smorto. Fa tutto solo. Fino in fondo. Bravissimo Antonio. Due punti. C. E' ancora aperta. Mandolci con la bomba Kevin. Super Kevin! La gara è riaperta. Nel frattempo Barrile. 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 Il lunetta. Realizza. Fa 1 su 2. Freno. Stai smorto. Però la bomba non va. Iacup Casa finisce così. Il successo è bianco-blu. Si abbracciano sportivamente Pasquale Motta e Peppe Cotroneo. Si abbracciano anche i ragazzi. Troviamo un bellissimo derby combattutissimo. Primi due quarti totalmente in equilibrio. Simon Lavigne manda i saluti a casa come sempre. Onore agli Singers che con questa nuova versione probabilmente andranno a recitare un altro ruolo in questo campionato. C'è poco tempo ma chiaramente dovranno provarci. Il nuovo assetto diventerà importante in vista del rush finale. La DR si rialza dopo tre sconfitte consecutive. Per carità arrivare dopo tre signore avversarie come Gela, Catanzaro e Alfa Catania. Finisce così il derby regino. Grazie a voi che aveva preferito me a Maria e Filippi. 66 Singers, 72 DR.